Grazie, arrivederci. Non è la stessa cosa, lo sappiamo bene, ma i pubblici esercizi ci tengono a precisare che a differenza del primo lockdown, adesso non sono chiusi ma aperti per il solo asporto dalle 5 della mattina fino alle 22, mentre la consegna a domicilio non ha limiti di orario. I termini, le parole sono importanti. Intanto dobbiamo dire che bar e ristoranti sono aperti, non è possibile consumare all'interno. I bar e i ristoranti sono chiusi quelli che vogliono essere chiusi, ma è consentito comunque l'asporto dalle ore 5 della mattina fino alle 22 della sera e la consegna a domicilio invece è consentita per tutto l'arco delle 24 ore. Questi servizi in tanti come noi abbiamo rinforzato questo tipo di servizi, quindi io penso che sia il caso di fare un po' una precisazione su questa cosa, perché tanti, sento, vengono, arrivano alla porta, ma si può entrare, non si può entrare, siamo aperti, siete chiusi, c'è qualcosa. Un bar, uno va lì e prende la pasta e la mette nella bustina e se ne va a mangiarla in azienda lo può fare. Così il caffè, così un panino eccetera eccetera. Quanto è importante avere il sostegno della clientela oggi? Il sostegno della clientela è sempre stato importante, ovviamente oggi ancora di più. Però bisogna dire anche un'altra cosa, che noi siamo anche delle attività che fino a che ci saranno le produzioni aperte, quindi le fabbriche, le attività, gente in strada, siamo anche, diciamo così, utili. Non siamo solo, siamo anche un servizio. Cosa vi augurate per il futuro? Una domanda quasi inutile, però gliela faccio, perché comunque, insomma, stringere i denti oggi, in questo anno così particolare, così difficile, e insomma, chi sopravvive, chi riesce a mantenersi in piedi, penso che la dica lunga anche su quanto vuole bene a questo mestiere. Che ci aspettiamo? Ci aspettiamo che questo problema sanitario finisca, che si trovi una piccola, una soluzione definitiva e che il 2021, almeno da partenza, come dicono i grandi esperti, dalla primavera in poi ci sia sia un rilancio sia dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, dal punto di vista, direi, sociale e psicologico, insomma, perché vedo la gente molto colpita. Grazie mille, arrivederci. Grazie, buona giornata, arrivederci. Grazie. Grazie.